Recentemente la questione royalties per gli NFT è stata sulla bocca di tutti. Il più grande marketplace NFT, ovvero OpenSea, ha deciso, sentite bene, di eliminare le royalties per tutte quelle collezioni che non seguiranno le sue regole. Hanno però spostato la scadenza di questo regolamento dall'8 novembre, data dalla quale il regolamento doveva essere attivo ed effettivamente è stato attivo, fino ad oggi o pochi giorni fa. Infatti non so quando è stata cambiata questa regola, ma adesso andando sul sito di OpenSea vediamo che il tutto è stato posticipato al 2 gennaio 2023. Quindi fortunatamente siete ancora in tempo per creare un progetto NFT che abbia tutte le royalties. Per essere chiaro leggiamo ora il loro articolo che vi lascio comunque qui sotto in descrizione e voglio precisare che stando al loro comunicato, dopo il 2 gennaio 2023, chi non usa il loro tool che ricordo va implementato direttamente on-chain sugli smart contract delle collezioni, potrà ancora scambiare gli NFT su OpenSea, ma il creatore di queste NFT non riceverà nessuna royalties dalla loro vendita. O meglio, il creatore della collezione stessa non vedrà proprio la voce per settare le royalties su OpenSea che noi tutti siamo sempre stati abituati a vedere. Mentre se decidete di utilizzare questo tool potrete scambiare gli NFT su OpenSea e ricevere anche le royalties dalla loro vendita. Però altri marketplace che non piacciono ad OpenSea per il loro policy, che non starò qui a spiegarvi ma che sicuramente potete trovare meglio qualche informazione su degli articoli sicuramente in lingua inglese, come ad esempio Luxray non potrà proprio vendere i vostri NFT. Non è che li potrà vendere senza darvi le royalties, proprio non potrà effettuare lo scambio del vostro NFT. Quindi voi effettivamente vedrete il vostro NFT su Luxray, fate finta di avere il primo Boredepiot Club, lo vedrete sia su OpenSea che su Luxray. Però su Luxray quando proverete a vendere questo vostro NFT apparirà questo messaggio di errore che non vi permetterà di effettuare la vendita. E infatti quella che vi sto lasciando qui in sovrimpressione è proprio la foto di un test che ho effettuato io utilizzando questo tool. Inizialmente questo articolo che poi è stato modificato diceva che il tutto era in vigore dall'8 novembre per la rete Ethereum e per la rete di test Goerly, ovvero la testnet di Ethereum. E poi se non erro dal 2 gennaio, non vorrei sbagliare ma sono sicuro che il mese fosse gennaio anche se non ricordo propriamente la data, il tutto sarebbe stato in vigore anche per tutte le altre reti EVM compatibili presenti su OpenSea. E per EVM compatibili intendiamo tutte le blockchain Ethereum virtual machine compatibili, quindi per esempio anche Polygon. Ora però sembra che tutto sia stato posticipato al 2 gennaio anche per la rete Ethereum e per la rete Goerly, anche se effettivamente questo tool è presente già da molto tempo e alcune collezioni sono state lanciate già presentando questo tool. Quindi non so come verrà gestito questo meccanismo per le collezioni che hanno già il tool integrato, come ad esempio quella che ho utilizzato io per fare il test del quale vi ho lasciato lo screen poco fa. Ed ora abbiamo davanti la pagina di OpenSea che ci spiega appunto come funzionano le creator fees sul loro marketplace. Non vi leggerò tutto l'articolo, tanto ve lo lascio qui sotto in descrizione e se siete interessati potete leggerlo dall'inizio alla fine, ma leggerò la parte che comunque interessa a noi. E vediamo come qui ci dicono che credono che i creatori, scusate il gioco di parole, debbano avere la scelta sul se settare o meno le creator fees e debbano anche avere gli strumenti che gli servono per rafforzare queste fees se decidono di settarle. Ed ecco qui che per le nuove EVM collection, ovvero per le collezioni EVM ethereum virtual machine compatibili, come ad esempio ethereum, polygon e per farvi un esempio di una rete che non è ethereum virtual machine compatibile, possiamo prendere in considerazione solana. Create dopo le 12 pm ET, ovvero east coast, quindi 16 del pomeriggio del 2 gennaio 2023, OpenSea onorerà le creator fees solamente per quelle collezioni che hanno un on-chain creator fee enforcement, ovvero che hanno rafforzato le creator fees direttamente on-chain, sulla blockchain quindi. E infatti qui ci dicono che il meccanismo per rafforzare i pagamenti delle creator fee avviene direttamente in blockchain e non sui marketplace individuali, quindi non avverrà più su OpenSea ma direttamente in blockchain. Vediamo come qui sotto dicono di continuare ad onorare le off-chain enforcement o creator fees per le collezioni già esistenti create prima delle 16 del pomeriggio del 2 gennaio 2023. E poi sotto dicono che continueranno comunque a rafforzare le creator fees per tutte quelle collezioni create utilizzando l'OpenSea Shared Storefront Smart Contract, quindi semplicemente il pulsante che si trova in alto a destra se non sbaglio di OpenSea con scritto Create NFT o Create Collection, una cosa del genere. E qui specifica sia per quelli nuovi sia per quelli esistenti. E poi qui sotto una cosa che sia importante ma alla fine è sempre stato così, quindi più o meno lo si conosce. Anche se farete questo rafforzamento delle creator fees on-chain dovrete comunque settare le royalties direttamente su OpenSea. Questo perché utilizzando il loro tool permetterete a OpenSea di abilitare le royalties per la vostra collezione. Però quant'è il numero di questa royalties, quindi questa percentuale, andrà settato direttamente su OpenSea come si è fatto alla fine per tutte le altre collezioni precedenti a questo nuovo aggiornamento. Senza soffermarci troppo, qui ripetono che per le collezioni lanciate il 12pm ET o dopo, quindi dalle 16 di pomeriggio italiane in poi del 2 gennaio 2023, dovrete appunto implementare questo on-chain enforcement. Qui sotto ci dicono anche di aver realizzato un tool per aiutarci a fare questo. E adesso possiamo passare su quest'altro link, che tra l'altro io vi lascio anche questo qui sotto in descrizione, che ci porta su una repository di GitHub fornita direttamente da OpenSea. Adesso per aggiungere questo tool che prende il nome di default operator filterer al nostro smart contract, dobbiamo andare qui in src e sostanzialmente adesso aprirò il default operator filterer.sol per farvi capire cosa noi stiamo andando ad importare all'interno del nostro smart contract. Ecco qui, questa piccola porzione di codice. Ve l'ho fatto vedere solamente per rendere l'idea. Adesso possiamo tornare indietro e cliccare qui su example. E vediamo come qui ci sono una serie di esempi, come ad esempio per gli RC1155 e per gli RC721. A noi in questo caso interessa per gli RC721. Vediamo come oltre queste due librerie, la prima e l'ultima, che sono due librerie di OpenZeppelin e che non c'entrano niente con il default operator filterer e sono messe qui solamente perché è uno smart contract di prova, mentre l'unica libreria che deve essere importata per far funzionare questo enforcement on-chain di OpenSea è il default operator filterer. Eccolo qui. Dopo aver importato il default operator filterer nel nostro smart contract che prende il nome di example IRC721 in questo caso. E dopo l'IS, IRC721, example e example che sono scritte in maniera diversa e il primo è il nome della collezione NFT mentre il secondo è il simbolo di questa collezione NFT. Viene aggiunto, oltre ownable che è di quest'altra libreria, viene aggiunto anche il default operator filterer. Una volta scritta a mano questa porzione di codice potrete passare al fare copia e incolla dalla prima all'ultima funzione. E una volta fatto command C o ctrl C se siete su Windows dovrete semplicemente fare command V o ctrl V sempre se siete su Windows nel vostro smart contract perché dovrete andare a sovrascrivere le funzioni di set approval for all, approve, transfer from e save transfer from. E infatti vanno sovrascritte perché in ognuna c'è questa piccola porzione di codice che servirà semplicemente a fare in modo che il set approval for all, l'approve, il transfer from e il save transfer from vengono applicati solamente se quel marketplace è effettivamente approvato. Per farvi capire meglio Luxray come marketplace non è approvato quindi se voi provaste a mettere in vendita l'NFT e quindi partisse la transazione di set approval for all darebbe errore perché appunto Luxray non è consentito e infatti vi apparirebbe la schermata di errore che vi sto facendo vedere nuovamente in sovrimpressione. Ed anche per questo video è tutto, io spero di esservi stato utile e di avervi lasciato delle informazioni importanti e se così fosse lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi ulteriori video sempre inerenti a questo mondo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!